Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Matteo Pertoni, con un nuovo video. Una brutta notizia. Forse dovremo annullare la serie Electronic Craft, perché siccome il server ha motivi di lag, forse lo dovranno risettare. E quindi annulleremo la serie e ne ricominceremo una nuova. Quindi decidete voi cosa dire. Ci vediamo al prossimo video.